Giallo intorno alle slot machine di Verbania. Tutto inizia nel 2005, quando l'allora sindaco Claudio Zanotti, con un regolamento comunale condiviso anche dall'opposizione, decise di spegnere le macchinette la mattina. In quel periodo i soldi spesi nel gioco d'azzardo si erano quintuplicati rispetto a 5 anni prima. Così il primo cittadino pensò al blackout mattutino per scoraggiare i ragazzini che preferivano le macchinette e banchi di scuola. Ma l'Euromatic, la società che gestisce videogiochi, fece ricorso al TAR del Piemonte, che dopo anni ha multato il comune per 1.300.000 euro. In sostanza le perdite della società devono essere risarcite dall'amministrazione. È a questo punto nella lettura della sentenza che inizia il giallo. Qualcuno scrive che il tribunale ha giudicato applicando alla lettera il codice Rocco introdotto durante il ventennio fascista. Il comune deve pagare perché la legge, vecchia di 81 anni, considera il gioco come un problema di ordine pubblico. Se fosse così la vicenda sarebbe grottesca. Peccato che il tutto si risolva con un conflitto di competenza fra Stato e Comune. Gli orari delle macchinette non sono di competenza comunale ma statale. Insomma, un caso semplice e banale di giungla burocratica come tanti. Resta il fatto che il sindaco di Verbania aveva fatto, sbagliando i modi, una cosa che molti avrebbero apprezzato. Anche se il preobizionismo non è la soluzione di tutti i mali, slot machine comprese.